Oggi noi come gruppo del Partito Democratico chiediamo a tua di salvaguardare il proprio patrimonio che sono gli autisti che stanno ricevendo delle multe, le riceve tua, puoi leggerla naturalmente gli autisti che devono far fronte alla sanzione e alla decortazione dei punti. Per quali tipi di multe lo chiediamo? Per le multe illegittime, non per chi passa con il rosso. Ce ne sono tante, ci sono autisti che toccano la segnaletica orizzontale a terra, quindi la striscia continua della corsia, perché trovano delle macchine parcheggiate in divieto di sosta e non possono fare altrimenti, a meno che, di fermare l'autobus, come sta facendo qualcuno. Qualcuno trova delle macchine ferme, chiama i vigili, attende l'arrivo della pattuglia che sposta la macchina e poi attraversa l'incrocio, altrimenti prende la multa e quindi si è guadagnato la giornata e prende anche la decortazione dei punti. Sono autisti che ci lavorano con la propria patente. La stessa cosa si verifica in altre tipologie di incrocio. Parliamo per esempio di chi, approssimandosi al semaforo, deve scegliere come autista se salvaguardare la persona che trasporta, che magari all'ora di punta sta anche in piedi sull'autobus o se invece impegnare l'incrocio prima che scatti il rosso. E poi ci sono altre questioni che riguardano la larghezza delle corsie. Un autobus di Tua è di largo 2,55 m senza gli specchietti. Abbiamo delle foto, ve le abbiamo girate, che dimostrano invece come le corsie siano molto inferiori dei 3,5 m previsti dal codice della strada. Quindi quelle multe sono assolutamente illegittime. Quindi chiediamo a Tua di interloquire con il comune e di fare in modo che i propri autisti siano salvaguardati da multe illegittime e trappola. E poi c'è il caso paradossale che ci è arrivato dopo la prima segnalazione delle 52.000 sanzioni sollevate su Pescara. Il 19 ottobre in via Tirino scoppia una condotta dell'acqua. I vigili bloccano la strada e invitano tantissime macchine quel giorno a passare con il rosso. Nonostante questo alcune macchine sono state sanzionate con sei punti in meno della patente. Addirittura nelle foto che sono arrivate a queste persone multate ci sono proprio le pattuglie dei vigili che invitano a passare. Hanno fatto anche ricorso in autotutela, non sono stati degnati di una risposta nei 20 giorni, hanno dovuto pagare le multe e si sono ritrovati con sei punti in meno sulla patente.